Ciao a tutti e ben ritrovati per questa seconda puntata di Belluno Calcio in Rete. Quest'oggi eravamo al progisportivo per occuparci invece di settore giovanile. Abbiamo chiamato ai nostri microfoni il neo responsabile del settore giovanile, Ivan Dariz, che ha spiegato i progetti e le finalità del vivaio giallo-blu per questa stagione. Io vi lascio quindi alle parole di Ivan e alle immagini che abbiamo raccolto. Oggi ci occupiamo di settore giovanile e non potevamo che chiamare il neo responsabile del settore giovanile per spiegarci questo nuovo anno che è appena iniziato. Intanto saluto e ringrazio Ivan Dariz, che è qui vicino a me. Da maggio sei il nuovo responsabile del settore giovanile. Cosa hai trovato al tuo arrivo? Sicuramente gli ultimi anni si è lavorato bene e la sformazione della prima squadra lo dimostra, perché sono tanti bellunesi. Quindi non ho trovato una situazione negativa, anzi una situazione molto positiva. Stiamo cercando di migliorare perché su tutte le cose si può sempre migliorare. Quindi questo è il nostro obiettivo per quest'anno. Appena sei arrivato, cosa hai cercato di portare del tuo progetto? Quali sono le cose che hai confermato e che hai ricontento comunque ci fossero già? In gran parte gli allenatori sono stati confermati. Quello che ho cercato di portare insieme a Modesto, che sicuramente è una figura fondamentale, Modesto Bonan per il nostro settore giovanile, per i nostri progetti, perché cura tutta la parte tecnica e senza lui non avrei mai accettato di assumere questo incarico. Quindi ho portato Modesto in primis e poi l'entusiasmo, perché l'ho presa veramente con grande entusiasmo e vorrei trasmetterlo ai miei tecnici, ai miei ragazzi, ai miei dirigenti e accompagnatori. Dai piccoli amici fino agli allievi, tante squadre, tanti ragazzi, te la senti di fare un po' un bilancio? La stagione dei più vecchi, quindi dei giovanissimi, dell'allievi è già iniziata, adesso inizierà anche quella dei più piccoli, che annata sarà? Sì, per le formazioni giovanissime e allievi abbiamo cambiato tanto, abbiamo provato tanti ragazzi nuovi, quindi sono delle squadre quasi totalmente nuove, che comunque hanno già cominciato bene con i primi risultati, le prime partite, visto che sono creati due bei gruppi di lavoro, anche con gli allenatori, Mirko Dalfarra, Alberto Dalfos per gli allievi e Alessandro Presta e Jimmy De Vettor per i giovanissimi. Più sotto stiamo vedendo che i numeri stanno aumentando, quindi rispetto allo scorso anno la scuola a calcio avrà qualche ragazzo in più e anche nelle categorie esordienti abbiamo visto che quest'anno abbiamo numeri un po' più importanti degli anni scorsi, quindi è un trend che vogliamo continuare a portare avanti. Dal punto di vista sportivo invece quali saranno gli obiettivi per quest'anno? Sia per i più piccoli che per i ragazzi un po' più grandi. Si dice sempre che nel settore giovanile non bisogna guardare i risultati, quindi noi partiamo da questo, partiamo dal fatto di cercare di innanzitutto insegnare ai ragazzi a stare in gruppo, allenarsi bene, rispettare le regole, rispettare gli avversari e tirar fuori qualche giocatore, insomma perché questo è il fine ultimo del settore giovanile per il Belluno, quindi continuare quello che è stato fatto negli ultimi anni, inserire sempre uno o due giocatori in prima squadra in pianta stabile e da lì partiamo. Dal punto di vista umano invece cosa intende Ivan da Rizzo per il settore giovanile? Intendo quello che ho detto prima, vorrei trasmettere ai ragazzi quello che ho imparato io, che ho fatto a Storia Giorina a Belluno, quindi innanzitutto il rispetto di tutti quelli che mi danno una mano ad essere qui, quindi a partire dalla società, dall'allenatore, rispetto per gli avversari e poi il piacere di fare le cose fatte bene, quindi prendere l'impegno già dalle categorie giovanissime, allievi che è l'avviamento all'attività agonistica, quindi che va distinta dalla scuola calcio, cominciare a fare le cose fatte per bene, quindi essere responsabile dell'impegno che si assume all'inizio dell'anno e portarlo a termine cercando di superare anche le difficoltà e non molare mai. I progetti invece che portarai avanti in questa annata, c'è iniziato a luglio col Super Pentaton, sabato scorso c'è stato invece i talenti, scopriamo i talenti di Belluno, poi ci sarà un'altra giornata un po' più avanti, tante le iniziative, puoi anticiparci qualcos'altro? L'iniziativa che abbiamo fatto col Super Pentaton e poi quella di sabato scopriamo i talenti di Belluno è sempre volta ai ragazzi, come adesso pensiamo che sia importante per i ragazzi, per i bambini fare attività sportiva, poi che sia il calcio sia un'altra cosa, è una cosa importante per lo sviluppo di questi bambini, è una scusa per toglierli dalla televisione, dal computer, dalla playstation, e quindi è una cosa sulla quale Belluno ci crede, vuole lanciare un messaggio positivo, al di là che poi questi bambini giochino a calcio o meno, e quindi è un'esperienza che verrà ripetuta in futuro. Hai già ricordato tu, quest'anno ti affiancherà un luminare nel campo come Modesto Bonagna, cosa porterà secondo te in più la sua esperienza e la sua professionalità al settore giovanile giro blu? Insomma, diciamo che è un punto di riferimento per tutti gli allenatori, ai quali cerchiamo di dare un supporto, cerchiamo di farli crescere, di migliorarsi sempre giorno per giorno, ed è un punto di riferimento anche per i genitori, a tal proposito adesso a fine mese faremo due riunioni, due incontri con i genitori, uno per i genitori della scuola calcio e uno per i genitori delle categorie un po' più grandi, giovanissimi allievi, per spiegare la nostra filosofia, per spiegare quello che vogliamo portare avanti insieme a loro, perché sono dei concetti che vanno condivisi e abbiamo bisogno in particolar modo dell'aiuto dei genitori per cercare di formare questi ragazzi. Un anno fa, non so se te lo ricordi, eravamo proprio qui su questa panchina e commentavamo il tuo arrivo, anzi il tuo ritorno qui a Belluno come secondo di Mister Vecchiato. In un anno tante cose sono cambiate, sei stato confermato come vice di Mister Vecchiato e ti è stata data la responsabilità del settore giovanile giallo blu. Un anno sicuramente ricco di associazioni, di cambiamenti comunque. È stato un anno bello, intenso, nel quale sono successe tante cose che non mi hanno fatto pensare al fatto che ho smesso i giovani di giocare, quindi mi hanno aiutato a superare lo shotgun. Quest'anno mi hanno dato questa grande opportunità, quindi ringrazio la società, perché vuol dire che hanno stima di me, che hanno fiducia in me, e quindi mi hanno dato questa opportunità e cercherò di portarla avanti nel migliore dei modi sicuramente. Facciamo due parole anche sulla prima squadra, questo è un grande per campionato. Cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione invece della squadra di Mister Vecchiato? Proveremo a giocare bene, a divertire i tifosi come l'anno scorso, a cercare di migliorarsi anche da fare qualche punto in più dell'anno scorso. Sono convinto che la squadra probabilmente è un po' più forte dello scorso anno. Gli acquisti che sono stati fatti sono sicuramente importanti e devo dire che si sono integrati benissimo da subito nel nostro gruppo, che è un gruppo sanissimo, che è veramente una gioia allenare. L'obiettivo nostro è sempre quello di migliorarci, vincere tutte le partite, poi vediamo dove arriveremo, non lo so. Il girone ha 20 squadre, il Venezia sopra tutti e poi c'è anche il Belluno. Sicuramente siamo un girone disegnato apposta per il Venezia. Vediamo le altre squadre, vediamo chi andremo a incontrare. Ci sono 4-5 squadre secondo me in seconda fascia e in questa fascia qui ci siamo anche noi. Il fatto che ci siano 20 squadre è bello, perché il bello del calcio è giocare la domenica, quindi abbiamo 4 partite in più da fare quest'anno, quindi è ancora più bello. Ultima cosa, se ci ritrovassimo qui a settembre del prossimo anno, cosa ti piacerebbe che fosse stato fatto, sia per quanto riguarda il settore giovanile che la prima squadra? Allora, la prima squadra è già riconfermare quanto di buono è stato fatto nelle ultime due stagioni, magari migliorando una o due posizioni in classifica, sarebbe meraviglioso. E magari lanciare qualche giovane dei nostri, della prima squadra, nei professionisti, come è stato fatto quest'anno con Posoco, sarebbe un bel segno del buon lavoro svolto dal mister Vecchiato. Per il settore giovanile mi piacerebbe aumentare ancora i numeri dei piccolini e dare un'immagine di una società dinamica che ha grande attenzione anche per il settore giovanile, come sta dimostrando il Consiglio d'amministrazione, che ringrazio per lo sforzo che sta facendo, oltre che per la prima squadra, che vediamo essere un gioiello secondo me a livello provinciale. Ultimissima cosa, tanti impegni ma anche tante soddisfazioni, a chi ti senti dire grazie in primis per questa opportunità? Sicuramente, l'ho detto prima, alla società, quindi al presidente Perissinotto, al vicepresidente di Viogaglio e soprattutto a Carbonari, Sergio, che è il punto di riferimento per il settore giovanile nel Consiglio d'amministrazione. E poi anche a Vecchiato che l'anno scorso mi ha dato questa opportunità di allenare a Belluno, a casa mia, dove sono cresciuto calcisticamente e anche grazie a lui quest'anno posso fare i due ruoli, quindi devo ringraziare anche Roberto sicuramente. Siamo arrivati al termine di questa seconda puntata di Belluno Calcio in Rete, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Siamo arrivati al termine di Belluno Calcio in Rete,